Sarebbe stato un impegno di normale amministrazione, Tanta ha portato indietro la palla Jean Dupé. Ecco il cross del terzino, non controlla la palla Jean Dupé, torna la palla Jean Dupé, intervento di Sipunito con questo calcio di munizione che viene battuto da Odermann. Parada di top, che ha scambiato due volte con Kuhn, Jean Dupé, Spinosi, questa volta l'ha calciato Jean Dupé, Odermann rimette verso Zoff, il parere del guardalini è che onestamente aveva sventolato al momento dello scatto del nostro centroavanti. Jean Dupé, Vedete come le azioni si susseguono da una parte e dall'altra ed ogni squadra tenti di passare in vantaggio. Recuperato da Chappuizat, Jean Dupé in posizione di alla sinistra, a davanti Spinosi, stringe al centro, Jean Dupé tira, Müller, puntate offensive. e potevano passare in vantaggio sia l'una che l'altra. Ramzaier, Jean Dupé, fermato altrettanto bene da Spinosi, su Esler, ed ecco Jean Dupé, Müller, Lunghissimo il lancio per Jean Dupé. Jean Dupé, Kuhn, siamo 0-0 e sono stati giocati 10 minuti del secondo tempo. Fallo di storia intervento di Boffi, ecco subito un lancio di Odermatt verso Jean Dupé, toglie la palla, il lancio di Odermatt, un tiro al volo di Jean Dupé, ribattuto prima da Burnic, poi ha respinto la difesa, Jean Dupé, bello il suo dribbling, Odermatt, Jean Dupé, Odermatt, Hasler, il lancio è per Jean Dupé, Odermatt, Agroppi, si inserisce bene fra i due, tocca la palla Jean Dupé, la rimessa in gioco è per gli azzurri. Fuori la palla, Rosato non riesce a perfezionare il rinvio, dopo essere intervenuto di forza su un avversario, poi tocca Riva, va fuori anche la palla, Riva la rimessa in gioco.